Spesso chi amministra le aziende pubbliche incontra notevoli difficoltà nella gestione operativa, anche a seguito della difficile normativa che talvolta li considera alla pari degli enti pubblici e in altri casi invece imprese di diritto privato. Va poi sottolineata l'indicazione della Corte dei Conti, che chiede espressamente un disegno di ristrutturazione organico e complessivo. Alla luce di tutto ciò, l'Ordine ha ritenuto opportuno organizzare un approfondimento, tentando di individuare le risposte alle numerose lacune che emergono dall'attuale regolamentazione. L'ha detto Massimo Iudice, consigliere con delega alla Commissione Fallimentare dell'Ordine dei Duttori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord. Il sviluppo Campania ha stanziato 120 milioni di euro per le aziende, che è una cosa importante in questo momento per dare veramente un impulso finanziario alle imprese che stanno sul nostro territorio. E la cosa importante, la notizia importante, è che questo bando è stato prorogato al 9 dicembre. Le domande erano tante, ovviamente la misura è uscita in ritardo, tant'è vero che noi come Ordine abbiamo cercato di dare subito informazioni ai nostri iscritti con un convegno che abbiamo fatto in settimana. Quindi è una misura importante. Importante anche i fondi europei, che siamo tutti in attesa del POR e quindi della misura 2014-2020 Horizon, che darà anche là, ci sono tante opportunità per finanziamenti alle imprese. E quindi io credo che noi come Ordine dobbiamo stare sulla questione che è fondamentale, soprattutto su nuovo sviluppo che dovrà dare a questo territorio.